Siamo molto contenti di essere qui nel Museo del Satiro, oggi riapre finalmente dopo questo periodo purtroppo che ha costretto a chiudere a causa della pandemia. Sono molto contenta appunto di fare le veci del sindaco e di aver accolto l'assessore alla cultura che ha appunto voluto riaprire il museo. Il museo è un patrimonio importantissimo per la città di Mazzara del Vallo, raccoglie un'eredità storica e culturale fondamentale e lo consideriamo un tassello importantissimo per il turismo e per lo sviluppo turistico di questa città. Quindi sono davvero contenta di questa riapertura e a breve riapriremo anche l'altra parte dei musei mazzaresi e quindi tornerà di nuovo a risplendere la città insieme a tutto il suo patrimonio museale. Il Satiro è il simbolo della nostra identità ed è fiore all'occhiello di questo luogo meraviglioso. È simbolo di mare ma è inquadrato in un momento di estasi, un momento in cui l'essere umano si unisce con qualcosa di più ampio, di più grande, con l'universo. Cosa più del Satiro rappresenta Mazzara? Microcosmo che si incornisce in un macrocosmo. Noi oggi riapriamo il museo del Satiro qui a Mazzara del Vallo ma l'invito che come assessorato dei beni culturali, come governo musumeci facciamo a tutti è venite a Mazzara del Vallo, scoprite questi luoghi incantevoli. Appena arriveranno i turisti in Sicilia, Mazzara del Vallo e il museo del Satiro dovranno essere meta, vorrei dire obbligata, ma chiaramente alla sensibilità di ciascuno, per il proprio viaggio di scoperta culturale in Sicilia. Non si può prescindere da Mazzara del Vallo, non si può prescindere dal Satiro, da veramente questo, dalla delicatezza con cui il Satiro ci riconcilia con il mare, con il nostro Mediterraneo e Mazzara è il simbolo del Mediterraneo. Dire cultura è un qualcosa di molto ampio. Noi abbiamo come assessorato dei beni culturali, fin dal giorno del mio insediamento, raccolto una sfida e oggi è un tassello di questa sfida che si completa, riaprire i luoghi della cultura, riaprire i parchi archeologici, riaprire i musei. Lo abbiamo fatto gratuitamente per una settimana, per otto giorni all'inizio e hanno risposto in tanti, coloro che erano pronti, poco a poco se ne sono aggiunti altri. Oggi un altro tassello si aggiunge, ma ripeto, la sfida è di fare in modo che ciò che era chiuso intanto riapra. Rendetevi conto che il 60% dei musei italiani sono ancora chiusi e questo è un dato gravissimo, purtroppo che dà la misura degli effetti che il Covid ha portato nell'ambito culturale. Noi abbiamo un grande progetto, un grande progetto che passa per la valorizzazione dei parchi archeologici, dei musei e per creare una rete di musei, non soltanto quelli della regione siciliana, perché non possiamo ragionare a compartimenti stagni, ma anche i musei delle università, i musei privati, i musei delle curie arcivescovili. Ecco, creare una rete che possa garantire al visitatore la possibilità di scoprire una terra incredibile come la Sicilia. Non ci devono essere gelosie, dobbiamo essere aperti a questa grande sfida. La Sicilia è un grande biglietto da visita, è il vero marchio Sicilia, è la nostra storia, la nostra identità. Quando si parla di identità siciliana si parla di DNA, si parla di codice genetico di ciascuno di noi, non del codice genetico di quelli di destra, di sinistra, di centro, gialli, verdi e rossi. Tutti noi siamo chiamati a far vivere ogni giorno questo codice genetico e custodire i nostri tesori. Il Satiro è uno di questi tesori, ma non custodirlo mettendolo in una teca e chiuderlo, mostrandolo al mondo. Il mondo deve scoprire Mazzara del Vallo, il mondo deve scoprire la Sicilia. Questa è la grande sfida di questa assessorata dei beni culturali.